Shalom 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 Prima di iniziare questa lezione voglio dare tutti i ringraziamenti tutto dovuto al Padre Yahawah nel nome di suo figlio Yahawah Shai il nostro Re, il Rendentore, il nostro Mediatore perché noi non siamo nemmeno degni di chiamare il nome del Padre né avvicinarlo ci vuole il nostro Mediatore che ci aiuta che fa da mediante che il suo nome è Yahawah Shai colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù miei saluti a tutta la casa di Israele a coloro che cercano con la giusta volontà e la verità e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità che conosco oggi sulla lezione precedente avevo promesso di fare una lezione sul libro di Genesi abbiate in mente che ho fatto vi faccio vedere qua ho fatto, ho guardato un po' diverse versioni delle scritture italiane ok? e ho notato che ho fatto anche in un video precedente ho notato che tanti sono stati tradotti male male apposta per sviare la gente e non c'è uno che è non c'è uno che è tutta giusta perciò ce ne sono delle traduzioni corrette su alcune e traduzione sì c'è per esempio alcuni libri alcuni versetti sono tradotti perfetti su una versione e arrivi su altri versi che non sono tradotti giusti allora bisogna andare a vedere un'altra versione e magari quei versetti sono tradotti giusti su quei versetti là perciò non c'è una sola scrittura italiana che ha tutta la traduzione perfetta perciò in questa lezione useremo più di una più di una versione delle scritture e vi consiglio di andare a scaricare questa applicazione che si chiama la U la Bibbia versione U ok? che ha diciamo ha diciamo delle scritture ha diciamo diverse versioni delle scritture ok noi inizieremo leggendo dalla nuova riveduta 2006 ok poi dopo c'è il posto dove ho notato che non ha dato una spiegazione più giusta e cambieremo eccoci qua a Genesi capitolo 1 nel principio Dio creò i cieli e la terra infatti questa parola Dio se andiamo a vedere la sua origine ok se andiamo questo è una scrittura in inglese la King James solo che qui c'ho la c'ho le traduzioni delle parole nella forma ebraica ok la parola per Dio non è proprio questa è una traslitterazione perciò non è la giusta traduzione alla Hayam sarebbe le parole là ok se andate a vedere poi la traduzione vedete che è plurale dei dei perciò non è un Dio solo è una plurale Dio la parola Dio vuol dire potenza potere ok è la parola Dio vuol dire potere potenza ok e la sua parola la parola Dio proprio nel singolare è Allah ecco perché i musulmani vanno dietro a quel nome là perché la traduzione di Dio in sé è Allah quando diventa plurale sarà Allah Hayam ok si aggiunge un Yom alla fine ok perciò la si vede che si tratta con Dei ok ora torniamo perciò qui quando dice nel principio cioè non sta parlando di un Dio solo sta parlando di Dei crea la terra e chi sono questi Dei allora bisogna capire che la parola Dio vuol dire potere ok perciò il creatore il numero uno si chiama Yahawa ok e il suo figlio che conosciamo come Gesù si chiama Yahawa Shai ok era lui con gli angeli a fare i lavori perciò Yahawa dava le ordine e il suo figlio e gli angeli mettevano in azione il lavoro che chiedeva il padre ok perciò il padre ha fatto lui il disegno di come creare tutto e ha dato tutto in mano ok a suo figlio e gli angeli che lo aiutavano ok era molto più profonda di quello ma un passo a volta ok quindi qui si legge nel principio dei creò i cieli e la terra sarebbe ok che sarebbe Yahawa Shai e gli angeli ok dall'ordine del padre Yahawa la terra era in forma e vuota le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Yahawa alleggiava sulle superfici delle acque ok Yahawa Shai disse sia luce e fu luce e vede che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre ok richiamò la luce giorno e le tenebre notte fu sera fu sera poi fu mattina poi giorno poi se notate qui nella giusta calcolazione il giorno dovrebbe iniziare alla sera quando va giù il sole ok non a mezzanotte come come hanno fatto oggi che ho fatto già una lezione precedente che parlava del calendario gregoriano come il tredicesimo papa ha cambiato le cose che era anche pure un turco era come hanno cambiato le cose il giorno non inizia mezzanotte inizia quando scende giù il sole ok e vi voglio puntare una cosa la terra non è stata creata in un giorno in sette giorni perché un giorno per i padri sono mille anni perciò la terra è stata creata in sette anni adesso vi tiro fuori la prova allora si trova in secondo pietro 3 8 ecco qui secondo pietro 3 8 ma voi carissimi non dimenticate questa unica cosa per i signori un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno ok qui avete visto che per i padri un giorno un giorno sono mille anni ok perciò la terra non è stata creata in un solo giorno ok la terra non è stata creata in un solo giorno sono stati creati in mille anni ok ora torniamo 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 dove eravamo perché queste scritture per capirle anzi vi tiro fuori questo versetto qua che si trova in Isaia Isaia 28 versetto 10 che dice a chi vuol dare insegnamenti a chi vuol far capire le lezioni a dei bambini appena diventati staccati dalle mammele poiché è un continuo dar precetto dopo precetto precetto dopo precetto regola dopo regola regola dopo regola un po' qui un po' là avete capito le scritture vanno lette un po' qui un po' là per coloro che vogliono dare insegnamenti ecco perché noi della Great Millstone studiamo e insegniamo le scritture così perché la risposta di un versetto si trova su un altro libro e un altro versetto è il mistero di questo libro qua se è dato a qualcuno uno lo capisce e se non ne è dato non importa come viene insegnato non lo capirà lo stesso ora torniamo sul libro di Genesi ora abbiamo vi ho dato la prova attraverso il potere che la terra non è stata creata in solo sette giorni che un giorno per il padre sono mille anni ok e abbiamo visto anche che la parola Dio vuol dire messaggero che sono plurale perciò era Yahawashai suo figlio e gli angeli ok che la parola angelo vuol dire messaggero ok quello sarà un'altra lezione ok poi Dio disse vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa e così fu qui avrei voluto farvi il disegno di questi processi qua allora la terra in sé se lo guardate sotto abbiamo le grandi acque e sopra c'è il cielo pieno di acque c'è ci sono le finestre d'acque ok che sono state chiuse infatti se leggete durante la distruzione durante il tempo di Noè leggerete che le finestre dei cieli sono state aperte allora le acque sono venute giù in tantissimo ok spero che lo capiate ok fu sera poi fu mattino secondo giorno poi Yahweh disse le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto ok le acque sono state raccolte ed è venuto fuori la terra la terra dove noi possiamo mettere i piedi adesso e così fu i poteri chiamano l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari poteri vide che questo era buono poi poteri disse producca la terra delle vegetazioni delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che secondo la loro specie portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra ok e così fu la terra produsse della vegetazione delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza secondo la loro specie poteri vide che questo era buono fu sera poi fu mattino terzo giorno ok ricordatevi prima che vi avevo detto che la parola Dio è e vuol dire poteri ok perciò io userò la parola poteri che ha più senso invece il senso che avete sempre avuto in cristianesimo e altre religioni ok poi poteri disse che i poteri ha a che fare con Yahabasha il figlio il padre e gli angeli ok sono stati dati l'ordine e l'istruzione dal padre il padre ha fatto il disegno di tutto poi l'ha lasciato al suo figlio e gli angeli e hanno fatto i lavori poi poteri disse vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno e la notte ok infatti se notate alla mattina presto anche prima che si risorge il sole vedete una sorta di luce ok questa luce questa luce che si parla qui ok che illumina il giorno si sa c'è la differenza tra il giorno e la notte anche senza il sole si hanno dei segni per le stagioni per i giorni e per gli anni facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra e così fu quella luce che dicevo poteri fece le due grandi luci la luce maggiore per possedere possedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte e fece pure le stelle poteri le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra per presiedere per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre ok poteri vide che questo era buono fu sera poi fu mattina quarto giorno e queste luci sta parlando della luna e il sole ok questo versetto 20 è molto importante ed è qui che siamo stati ingannati sempre dalla chiesa perciò io avendo già visto questa scrittura ho visto che su questo versetto sì ecco il motivo perché ho scelto la nuova ripreveduta 2006 perché è l'unica che ha usato le parole adesso vi faccio vedere dove è l'ingano anzi vado a prendere un altro per esempio prendo la Diodati riveduta ok e vedete qui l'ingano poi i poteri dice producano le acque in abbondanza animali viventi animali viventi comunque se andate sul manoscritto giusto originale qui invece animali che sono stato messo qui si dice si parla di esseri viventi ok esseri viventi adesso se andate a vedere tutte le altre versioni vi dice sempre questo ma vado sulla nuova riveduta 2006 e non solo mi sa che anche 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 la nuova riveduta 1994 si anche la 94 la nuova riveduta usa la parola giusta che dice poi i poteri disse producano le acque in abbondanza esseri viventi avete visto la domanda è uomini sono degli esseri viventi sì o no la risposta è sì perciò il quarto giorno tutti gli esseri viventi sono stati creati incluso uomini ok è molto importante questo questo versetto qua ok e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo poteri creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie e ogni volatile secondo la sua specie poteri vide che questo era buono ok poteri li benedisse dicendo crescete moltiplicatevi e riempite le acque dei mari e si moltiplicano gli uccelli sulla terra fu sera fu mattina quinto giorno perciò qui gli esseri viventi anche incluso gli uomini sono stati creati e sono venuti fuori dalle acque infatti se guardate una donna incinta il bambino è chiuso in una sacca di acqua ok il bambino è chiuso dentro una sacca di acqua e infatti prima di nasce si dice si rompono le acque ok noi veniamo dall'acqua tutti gli esseri viventi infatti qui ho messo a parte un album che ho visto del Pink Floyd vedete questa immagine questo sarebbe il vero senso ok infatti loro sapranno una verità di queste cose qua e ci hanno dato scritture sempre tradotte così per mandarci fuori e andiamo anche a vedere come sono come sono spero eccoli qua vedete qua il bambino è chiuso in una sacca d'acqua avete visto noi veniamo dall'acqua vedete chiuso in una sacca d'acqua ma tutti gli esseri viventi sono venuti all'inizio dall'acqua come abbiamo visto l'immagine di prima questa immagine qua tutti gli esseri viventi sono venuti fuori dall'acqua ok e poi se guardate anche scientificamente l'uomo è fatta di 75% d'acqua ok avete capito l'uomo è fatta di 75% d'acqua ok ok siamo qui poi qui il potere di se produca la terra animali viventi secondo la loro specie bestiame erettidi e animali selvatici della terra avete visto prima erano esseri viventi e qui sono gli animali selvatici ok e cosa è successo lì il padre ha creato tutte le nazioni nel quarto giorno qui che abbiamo visto sono venuti fuori dall'acqua ok producano le acque in abbondanza esseri viventi qui tutte le nazioni del mondo sono state creati ok tutte le nazioni del mondo sono state creati là nel quarto giorno ok non fatevi ingannare spero che questo messaggio vi sia chiaro perché a coloro che sono eletti sarà chiaro senza problemi ma a coloro che non non sono questo messaggio non fa per loro che devono rimanere in tenebre non lo capiranno ok perciò pregate che voi siate contatti con gli eletti per avere questa conoscenza qua e si infatti questo vi sblocca tutti i dubbi quando si parla dell'albero della conoscenza che arriveremo anche là ok qui i poteri fece gli animali selvatici della sera secondo le loro specie i bestiami secondo le loro specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie poteri dire che questo era buono ok poi i poteri di sé facciamo facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza e abbiano domino sui pesci del mare sui uccelli del cielo sul bestiame su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra qui è molto importante è molto importante perché qui che cosa fa il padre attraverso il suo figlio Yahweh Shai e gli angeli hanno poi preso tra tutte le nazioni abbiamo detto che su quattro giorni hanno creato tutte le nazioni degli esseri viventi incluso gli uomini ok che sono venuti fuori dall'acqua e abbiamo visto come prima di nascere un uomo è chiuso nella sacca d'acqua abbiamo visto anche che il corpo umano è acqua 75% perciò 75% se no di più qui tutti quei esseri umani là sono come degli animali alla fine erano uomini ma a livello animale perché la scienza del giorno oggi vi dicono sempre che siamo degli animali più sviluppati ma non è vero niente infatti hanno ragione in tanto senso perché l'unico popolo al mondo che non è vicino agli animali è il popolo di Israele che era prima di essere Israele era un popolo che si chiamava gli Adam il popolo degli Adam ok è il popolo dell'Adam perciò cosa fa il padre qui ha preso un popolo tra il popolo dei uomini ok ed ha fatto nella sua somiglianza e conformità che cosa è? dandogli la legge la legge sua ok questa è la conformità che le ha dato la somiglianza che le ha fatto ok ed è quello che è successo qui facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza andiamo a leggere un'altra versione vediamo cosa dice ok qui dice facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza ed abbia dominio su pesci del madre ok i poteri creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine dei poteri li creò maschio e femmina ok perciò ha fatto questo popolo dandogli la sua conformità che è la sua legge ok è la sua legge ok quella legge la sua legge è vita ok ci ne sono altri progetti che ci fanno capire questa cosa qua ma non voglio tenere troppo lunga questa lezione se non andiamo fuori linea ok perciò quello che è successo qui ha creato si l'uomo ha creato già preso tra quegli uomini il suo popolo e gli ha dato la conformità che è la sua legge il suo morale ok la sua conoscenza ok e i poteri li benedissero e i poteri disse loro crescete e moltiplicate e riempite la terra e rendete vela soggetta e dominate sui pesci dei mari e sui uccelli dei cieli e sopra ogni animale che si muove sulla terra e i poteri disse ecco io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme questo vi servirà di nutrimento e ad ogni animale della terra e da ogni uccello dei cieli e a tutti ciò che si muove sulla terra ed ha in sé un soffio di vita e io do ogni erba verde per nutrimento ok qui siamo andati ok e così fu e poteri vedere tutto questo che aveva fatto ed ecco era molto buono così fu sera poi fu mattina e fu il sesto giorno ok il settimo giorno sappiamo che si è riposato questo poi qui per darvi per darvi un precetto che punta che qui qui i poteri creano l'uomo a sua immagine che ha preso un popolo che tra i uomini che ha creato non era solo un uomo ma c'era la testa di questi questi uomini qua uno il primo che si chiamava Adam ok ma Adam aveva un popolo ok ha creato un popolo ok non ha creato solamente Adamo ok e questo vi lo faccio vedere in capitolo 5 ok perché è molto importante avete visto qui c'è scritto questo è il libro della posterità di Adamo ok andiamo ora a vedere un'altra versione vediamo la Diodati 1885 che questo dà una traduzione più giusta di tutti gli altri che ho guardato fate attenzione qui questa è la descrizione delle generazioni di Adamo ok nel giorno che i poteri creò l'uomo e egli lo fece alla sua assomiglianza ok qui prendete attenzione delle generazioni ok non ha detto delle generazioni di un solo uomo delle generazioni su ok perciò questo è un popolo che si chiama Adamo ok è un popolo che si chiama Adamo ok non è non è un solo uomo ok è un popolo che si chiama Adamo e comunque c'era quello della testa del popolo che si chiama Adamo ma nel senso stesso senso il popolo si chiamava Adamo ok ora siamo al capitolo 2 così così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito di quelli ora avendo i poteri compiuti nel settimo giorno l'opera sua la quale egli aveva fatta si riposò nel settimo giorno da ogni sua opera e egli aveva fatta e i poteri benedisse il settimo giorno e lo santificò perciò che in esso egli si era riposato da ogni sua opera che egli aveva creato per farla questo è il suo segno il settimo giorno perciò anche noi ci è stato istruito di non lavorare di non vendere di non fare nessun tipo di lavoro il settimo giorno di riposarci il settimo giorno e la chiesa come sapete la casa di ungano vi fa andare ad adorare il primo giorno della settimana domenica non è il settimo giorno nel suo senso è il primo giorno della settimana e comunque il calendario Gregorario che usate non segue nemmeno la conformità dei giorni non segue nulla della conformità dei giorni noi della Great Moon Stone seguiamo il calendario della luna che la luna ci è stato creato per farci vedere i tempi ok e tutto questo è un'altra lezione da da vedere ok tali 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 furono le origini del cielo e della terra quando quelle cose furono create nel giorno che il Signore Yahawa fece la terra e cielo e ogni albero ed abuscello della campagna avanti che ne fosse alcuni in su la terra e ogni erba della campagna avanti che ne fosse non sei che che